Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo della Techadron Production e nel video di oggi ritorniamo a parlare da Vinci Resolve e come avrete letto dal titolo e visto dalla copertina oggi andremo a vedere quali sono i trucchi del mestiere per organizzare al meglio il nostro montaggio quindi per avere un montaggio che è il più pulito e organizzato possibile che è una cosa utilissima in tantissimi casi come ad esempio nel caso in cui il cliente vi chiede ad esempio una review del progetto, facciamo conto anche mesi dopo che avete fatto il montaggio se ve lo chiedo dopo tanti mesi magari non vi ricordate preciso cosa era questa clip e cos'era quest'altra come era organizzato e perdete tantissimo tempo. Se invece avete fatto un montaggio bene organizzato fin dall'inizio non avrete certo di questi problemi. Ma come fare? Beh è semplicissimo e lo vediamo dopo la sigla Ok quindi eccoci qua dentro a Da Vinci Resolve. Più nello specifico siamo nella pagina CAT, pagina di apertura Da Vinci Resolve. Ma non è da qui che partiremo perché infatti ogni montaggio parte dai media ovvero dall'inserimento di clip all'interno del nostro progetto. Quindi per prima cosa ci spostiamo dentro alla sezione media di Da Vinci Resolve. Ed è qua che vediamo, qua su in cima ovviamente vi consiglio di attivare il media storage, vediamo quelle che sono le nostre clip. In alternativa potete importare le vostre clip pure direttamente trascinandole da Explore Risorse. A voi la scelta, io ve lo faccio vedere da qui ma è esattamente indifferente. Quindi la prima cosa è necessario fare una bella divisione per quello che è il nostro progetto tra macchine, soprattutto se usiamo macchine diverse o ad esempio tra location. Se quindi ad esempio facciamo conto stiamo realizzando dei video a Firenze e dei video a Roma è bene tenerli separati sia in fase di archiviazione che in fase di montaggio. Qualora non abbiate le vostre clip già separate vi consiglio di farlo in quanto è molto utile. Nel mio caso io ho qua delle clip della Sony FDR-X33, dei video della D500, delle foto della D500 e delle foto della Alpha 6000. Io voglio unire tutte quante queste clip qua per fare un bel video da consegnare al mio cliente. Quindi innanzitutto come fare l'importazione? Io potrei prendere tutte quante le mie clip e trascinarle dentro al media pool ed otterrei un insieme di clip messe così a caso che non hanno alcuna sparazione. Qua vedo le clip della Sony perché le riconosco dal nome queste là sono le foto della D500, va bene, le riconosco e queste là sono i video. E questa organizzazione qua, oltre a essere fallace, è davvero un problema assurdo perché ora io vi ho fatto l'esempio con pochissime clip. Ma voi considerate un caso dove avete, facciamo conto, anche 10.000 magari sono troppe ma facciamo conto 1000 clip che ci sta, è un progetto normale 1000 clip, un progetto abbastanza grosso ma un progetto normale e vi perdete assolutamente, soprattutto se poi dovete addirittura scegliere queste clip se non sono già clip scelte. Quindi assolutamente da non fare così, non trascinate mai le vostre cartelle o i vostri file dentro alla media pool, soprattutto se avete già una separazione in cartelle. La cosa migliore da fare è importarle qua dentro alla sezione delle cartelle in modo che DaVinci Resolve manterrà tutte quelle che sono le nostre cartelle. Molto importante avere attivo Show Individual Frames se in caso non lo aveste perché se avete molte foto che hanno numeri sequenziali DaVinci Resolve le regrupperà al gruppo di 24 in ottica video. No, noi vogliamo avere foto separate. Quindi detto questo prendiamo le nostre cartelle le selezioniamo, le trasciniamo e questa volta qua le rilasciamo dentro al master. Ed ecco qua che tutte quante le nostre cartelle sono state applicate da tutti quanti i miei file divisi. Se non avevamo già dei file divisi, la cosa migliore era fare clic destro o nella media pool o di qua nel master e cliccare su new bin in entrambi i casi. In questo modo qua andiamo a creare una nuova cartella che facciamo conto chiamo Timelines giusto appunto perché è una cartella che ci mancava. Questa cartella qua è una cartella che io aggiungo sempre nei miei progetti ed è la cartella che contiene tutte quelle che sono le mie timeline così che almeno le ritrovo subito a colpo d'occhio. Un'altra cartella che vi consiglio di aggiungere sempre per organizzare al meglio il vostro montaggio, la vostra fase di montaggio è quella che si chiama Extra. In questa cartella qua io vado a inserire tutti quelli che sono i miei video di Extra che possono essere visual effects, sound effects, musica e molto altro motion graphic o anche semplicemente immagini passate dal cliente ad esempio il logo dell'attività. Ovviamente dentro la cartella Extra possiamo pure andare a creare nuove cartelle che possiamo chiamare per esempio loghi oppure cartella dei sound effects dove andiamo a inserire tutti quelli che sono i nostri sound effects e così via. Ovviamente poi questo qua sta a voi decidere magari se avete un progetto molto piccolo con qualche sound effects e una musica o due e due o tre loghi non c'è neanche bisogno di fare questa separazione ma soprattutto su progetti di media grande entità è molto utile avere una media pool ben organizzata. Quindi questo qua era il primo passaggio avere una media pool ben organizzata. Ora noi abbiamo raggiunto questo obiettivo. Quindi ci possiamo spostare nella pagina edit e iniziare a editare. Adesso dobbiamo sistemare per bene quella che è pure la fase del montaggio. Quindi facciamo conto, per il nostro cliente dobbiamo fare un video di un minuto oddio con le clip che ho ora importato non so neanche se ci arrivo un minuto. Facciamo conto un video di 30 secondi, di 10 secondi, a 10 secondi ci arrivo di sicuro. Dove ovviamente dobbiamo mostrare il meglio delle nostre clip video. Quindi vabbè innanzitutto vado a creare una nuova timeline e la chiamiamo video definitivo anche se poi in realtà sa bene tutti che la timeline video definitivo non è mai quella definitiva. Però a scopo del tutorial facciamo così. Dentro ci vado a importare tutte quante le mie clip video perché facciamo conto che voglio partire con dei video per poi andare a fare un piccolo slideshow di foto in fondo. Quindi importo tutti i video e importo pure i video registrati dalla camera e se voglio magari li metto pure, ora avevo la timeline troppo zoomata e non me ne ero accorto, li metto pure separati oppure se voglio proprio fare le cose fatte bene, se ad esempio ho tante clip sia di una che dell'altra camera e le devo scegliere, posso pure invece di fare una timeline sola che si chiama video definitivo andare a creare un'altra timeline ancora che chiamiamo ad esempio D500 in questo modo qua, qui andiamo a inserire tutte quante quelle sono della D500. Ovviamente se volete creare delle timeline pure direttamente con le immagini non potrete benissimo farle, basta selezionare clip, clic destro, create new timeline using selected clips e questa valla che andiamo a chiamare Sony perché mi fa fatica a mettere tutto quanto il nome. Quindi questo è quanto e così abbiamo le nostre clip separate di qua dentro a quelle della D500 dove importare i video. Quindi avevamo detto dobbiamo realizzare un video di 10 secondi, adesso al momento soltanto questa timeline qua sono 2 minuti e 56 quindi dobbiamo tagliare. Come fare? Allora quello che mi sento di consigliarvi per avere un montaggio ben organizzato soprattutto all'inizio è bene andare a fare una prima scelta delle clip quindi ad esempio clip numero 1 questa qua ma no questa qua non mi piace quindi gli do un colore quindi ad esempio il colore viola e io so che al colore viola è abbinata a una clip che non voglio. Io in più ho impostato pure degli shortcut da stasera che potete benissimo mettere cliccando su da vincere solo qua su in cima e keyboard customization da qua vi potete inserire tutti quelli e tutti gli 15 shortcut che volete preferite e io ho impostato gli shortcut di colore quindi ad esempio se premo F1 la clip diventa verde e per me per la mia tecnica di montaggio la clip verde significa clip perfetta clip che userò di sicuro nel video finale poi arancione invece è una clip che richiede magari un pochino di assestamento ma che comunque sia andrò a utilizzare l'assestamento può essere di color correction necessaria oppure di cropping necessario assestamento in generale. Poi la clip e il tasto invece con il tasto function 3 ho associato il colore rosa e il colore rosa vuol dire che è una clip che non è che sia come fossi bella che molto probabilmente non utilizzerò ma se dovessi magari essere a corto di clip potrei benissimo usare in quanto bene o male è decente mentre di viola vado a selezionare quelle che sono proprio le clip che fanno davvero pena e in questo modo qua il montaggio è davvero velocissimo perché vi faccio vedere io adesso seleziono i colori molto velocemente a caso ovviamente non ho visto nulla poi impostando altri shortcut potete benissimo ad esempio con il tasto F8 andare a selezionare tutte le clip viola e con un solo tasto eliminare le clip viola dalla vostra timeline. In questo modo qua vi rimarranno soltanto le clip che davvero volete utilizzare in più saranno ben organizzate quindi in fase anche più avanti del montaggio quando facciamo conto dobbiamo fare la color correction io so che la prima clip è verde e questa qua non ha bisogno di nulla di color correction al massimo ci andrò a fare del color grading mentre so che la clip arancione necessita molto color correction perché facciamo conto è sposta male quindi mi sposterò nella pagina color soltanto per questa clip qua e ridurrò moltissimo i miei tempi di editing quindi questo qua era per quello che riguarda l'editing quello che io chiamo editing a colori che è davvero una cosa secondo me utilissima di da Vinci Resolve la possibilità di avere i colori così maneggevoli e così potenti in modo da gestire al meglio il nostro montaggio e da fare una cosa davvero molto pulita e ben organizzata mentre poi parlando di un'altra tecnica secondo me molto utile per avere una timeline e un progetto ben organizzato è quella di creare compound clips e voi mi direte sì bene la scoperta dell'america no non è vero perché facciamo conto noi vogliamo inserire su questa prima clip un testo semplice a questa altezza qua dove ci vogliamo scrivere bello bella bella clip poi ci vogliamo mettere pure un altro test sopra che facciamo conto lo vogliamo sempre inserire nello stesso identico punto e qua ci vogliamo scrivere clip ecco giusto appunto e lo vogliamo scrivere però con un fonte diverso che potrebbe essere questo in italic con una dimensione più grossa e spostandolo più a sinistra quindi poi ci vogliamo pure aggiungere sotto facciamo conto la nostra film la nostra firma altro titolo e ci vogliamo mettere thp teccadron production eppure stavano vogliamo mettere dimensione più grande sotto spostato un pochino sulla sinistra e magari proprio già che ci siamo sotto alla scritta thp ci vogliamo inserire pure un solid color del colore thp il cosiddetto colore thp per andare a dare un pochino più di dinamicità alla nostra clip quindi andiamo a importare il colore thp ed ho sbagliato tutto perché mi sono scordato che il tastierino numerico è disattivato perché deve essere disattivato 21 23 32 colore thp importato e ovviamente sto scherzando sul colore thp insomma è giusto il colore che uso per la thp non penso di aver inventato nulla di sicuro ci saranno una marea di altre persone che usano il colore thp quindi facciamo conto noi vogliamo realizzare una cosa del genere adesso ho già realizzato 5 tracce video dal nulla ma si può andare avanti all'infinito perché se ad esempio facciamo conto vogliamo aggiungere pure un background rettangolare alla scritta bella oppure dobbiamo aggiungere l'immagine del logo insomma si fa prestissimo ad arrivare a 20 tracce video quindi possiamo raggruppare il tutto selezionando tutte quante le nostre tracce le nostre clip scusate e cliccando su new compound clip e questa qua la chiamiamo motion graphic bello nonostante in realtà sia tutto fuorché bello però ci scriviamo soltanto motion graphic anche perché mi fa fatica a scrivere tutto quindi in questo modo qua ho radunato in una sola clip video tutte quante le mie 5 clip e qua adesso magari qualcuno di voi che è meno esperto con da vinci resolve mi dirà sì ma se poi io voglio modificare il testo bella come faccio perché qua non è disponibile nell'inspector non lo posso modificare come posso fare beh allora innanzitutto scusate vi rifaccio vedere il new compound clip clic destro prima opzione mi era scordato di zoomare come faccio se voglio modificare il testo beh semplicemente clic destro sulla clip e open in timeline e mi verrà aperta una nuova timeline con il nome della mia clip dove avrò tutti quanti test tutti quanti testi e le immagini e qualsiasi clip che ho inserito modificabili se in più voglio invece ritornare alla situazione iniziale non mi resta fare nient'altro che fare clic destro sulla clip e cliccare su decompose in place in questo modo qua ritorneremo alla situazione iniziale con un clic quindi una cosa davvero semplicissima queste qua secondo me sono le migliori tecniche di organizzazione del montaggio e si parte dalla dall'organizzazione dei media per arrivare a un editing da colori per poi concludere con uno dei tool secondo me più utili da vincere solve in generale della maggior parte dei software di montaggio video che sono le compound clip bene quindi siamo giunti alla fine pure di questo video spero l'abbia trovato utile e interessante se fosse così fatemelo sapere con un bel pollicione in su inoltre condividetelo oppure con altre persone potrebbero essere interessate e se ancora non siete iscritti vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella notifica in quanto è fondamentale per non perdervi nessun nuovo video detto questo seguitemi pure sui miei social network instagram facebook e twitter in quanto pure lì troverete contenuti di qualità e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video ciao